Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo qui con Philosophy Kitchen e Ortotes, la casa editrice, perché festeggiamo la riedizione di Diario Fenomenologico di Enzo Parci, uscito per il Saggiatore nel 1961 e ripubblicato da Ortotes proprio quest'anno. Ringraziamo Ortotes per averci scelti a organizzare questo evento dedicato a Enzo Parci e al Diario Fenomenologico, ma la ringraziamo anche proprio per questa felice operazione. Piero Aldorovatti sta già mostrando la copertina, io accennerò semplicemente ad alcuni dati legati alla pubblicazione dell'opera e alle persone che interverranno questo pomeriggio e poi lascio la parola per non occupare troppo tempo. Ricordo che Diario Fenomenologico è uscito per Ortotes nella collana italiana, una collana pensata, dedicata alla filosofia italiana, tra cui sono stati pubblicati Giuseppe Renzi, Donato Iaia, Giovanni il Ventile e alcuni studi sulla filosofia italiana. Il volume è stato voluto fin da subito dalla fondazione della casa di Trichortotes, ma l'operazione è stata poi caldeggiata dal curatore dell'opera che è Massimo Cerulo, il quale poi ha scritto una postfazione al diario. Cerulo è un professore di sociologia, tra l'altro è qui presente, lo ringraziamo, al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia e insegna anche a Parigi presso il CNRS. Ricordo che l'intervento sarà così strutturato, interverrà inizialmente Giovanni Leghissa, che fa un po' strano da presentare. Comunque Giovanni Leghissa, oltre ad essere il direttore di Philosophy Kitchen, è anche professore all'Università degli Studi di Torino, dove tiene corsi per la Cattedra di Fenomenologia, ed è un grande lettore di Paci. Anche in vista della sua formazione interviene Federico Tosca, il quale si sta dottorando con una discussione di tesi che dovrebbe avvenire a giugno, proprio sul pensiero di Paci, a partire dalle questioni della teleologia e della coscienza. E per finire, siamo molto lieti che ci sia con noi Peraldo Rovatti, che forse è da presentare anche inutile, ma lo faccio lo stesso, ci provo. Peraldo Rovatti è stato un docente dell'Università di Trieste, ma più di tutti per noi è stato uno dei filosofi che abbiamo letto, grazie ai suoi studi su, cito, quelli più vicini a Philosophy Kitchen, non me ne vorrà, Whitehead, Sartre, Bergson, Hume, Bateson, la Fenomenologia del Marxismo, quindi siamo davvero molto molto onorati della sua presenza. Non rubo altro tempo, mi scuso se non sono stata breve. Bravissima con le presentazioni e Giovanni, a te la parola. Devi accendere il microfono Giovanni, io invece lo spiego. Grazie, grazie per la presentazione, so che è difficilissimo fare le presentazioni, ma tu sei brava. E anche io cercherò di essere molto breve, perché appunto, visto che il tempo non è tantissimo, mi sembra più opportuno per chi ci ascolta, appunto, lasciare spazio a non solo chi ha studiato Paci, ma anche a chi ha studiato con Paci, nel caso di Peraldo Rovatti, e che poi insomma ha anche continuato da molti punti di vista il suo pensiero. E' ovvio che le cose che dirò dipendono anche dall'insegnamento di Rovatti, che è stato mio maestro a Trieste, e in quell'insegnamento le questioni che si pongono nel dialogo fenomenologico sono cruciali. Perché questo? Perché se la filosofia deve fare un passo indietro rispetto non solo al mondo, alla teoria, ma rispetto a se stesse innanzitutto, rispetto al suo compito primario, che è quello di, nonostante di dire la verità, a volte si riesce, a volte no, ma insomma, ha il compito di stabilire che cos'è la verità. Perché poi, chiaro, la filosofia si occupa anche di altro, della giustizia, della libertà, della correttezza formale, di ontologia, di epistemologia, si occupa di tante cose, ma a monte di tutte queste faccende, l'oggetto primario del discorso filosofico, ha a che fare con la verità. Ecco, però, dalla filosofia di Husserl, da Paci, da Rovatti anche, ci viene un insegnamento, secondo me, fondamentale, che consiste in questo, nel dire che il compito primario, in realtà, il primo gesto che deve fare il filosofo, è quello di fare un passo indietro rispetto alla sua pretesa di dire, di catturare, di definire il vero. E qua, appunto, il fatto che si possa scrivere di filosofia scrivendo un diario non è affatto inessenziale. Ecco, qua si dà proprio nella forma diario, la scelta fatta da Paci di scrivere di filosofia in quella forma, si dà la concretizzazione, direi, la migliore esibizione, ecco, di questa necessità che consiste nel fare un passo indietro rispetto al gesto che il filosofo fa. Un gesto strano, quindi, quello di cui stiamo parlando. Mentre fa il gesto di essere filosofo, di istituire il risultato filosofico, nello stesso momento in cui lo fa, il filosofo prende anche distanza da se stesso. Ma questa è l'epochè. Questa è l'epochè di cui parlava Husserl e che Paci modula a modo suo. Ma in questa faccenda qua c'è un altro aspetto che secondo me è essenziale, che consiste nel parlare in prima persona. Noi sappiamo che la fenomenologia deve poter parlare in prima persona, ma proprio nel discorso che fa Paci nel diario si capisce bene perché le cose devono stare in questi termini. Non è solo una questione di metodo. Si ha a che fare con questo parlare in prima persona, con questo tentare di catturare il flusso dell'esperienza nel mentre lo si vive, perché di questo stiamo parlando, no? Quando parliamo di un discorso fatto in prima persona. E se si è filoso... questa è una cosa che possiamo fare tutti volendo, no? Ciascuno di noi può, come dire, collocarsi nel flusso della propria esperienza e dire qualcosa su questa. Se però a fare questa operazione il filosofo, che vuole anche far filosofia a partire da qui, è la faccenda a cui sta un tono particolare. In che senso? Nel senso che questo parlare in prima persona, quindi questo interrogarsi come soggetti di un'esperienza possibile, significa esporre l'atto del pensiero, perché Paci in sto libro comunque fa filosofia, non è che racconta, racconta sì anche, no, esperienze autobiografiche, ricordi, paesaggi, emozioni, eccetera, però fa un testo filosofico a tutti gli effetti. Ecco, se il filosofo fa quest'operazione, espone il pensiero, non tanto il suo, ma il pensiero, l'universale, al quale comunque il filosofo deve riferirsi, perché se non parlasse il nome universale, farebbe letteratura, no? Che è un'operazione nobilissima, forse migliore, se non altro meno noiosa, ma è un'altra cosa. Il filosofo nel fare quest'operazione, nel esporre l'universale, nel porsi come ventrilo, o si potrebbe dire, dell'universale, ma parlando in prima persona, è pregiunto in forma di diario, beh, espone l'assoluta contingenza del suo atto, la espone, la mostra. Dicendo io, io il giorno X, non so, 14 giugno del 57, penso questo, a Milano, e rendo conto dell'assoluta contingenza del pensare, spoglio il pensare di ogni assolutezza, pensare non è, per quanto sia pensare universale, eccetera, per quanto sia qualcosa che abbia di mira, no, la possibilità di essere ascoltati da un uditorio universale, composto da tutti gli esseri senzienti, ecco, però leggo questo atto all'assoluta contingenza del fatto che sono qua. Oggi noi siamo qua, il 30 maggio, ognuno in città diverse magari, però siamo qua riuniti grazie alla rete, ci parliamo, ci ascoltiamo, Paci negli anni 50 a Milano scriveva quelle cose, ecco, che si espone il pensiero alla contingenza dell'atto del pensare, quindi lo si spoglia, in sostanza, di quella pretesa che invece il pensiero espone, no, in quanto pensiero dell'assoluto, quando non si parla in prima persona. Filosofia di solito si fa in terza persona, no, cioè ci si nasconde dietro l'universalità, ci si identifica con questa, dimenticando che questa identificazione ha anche dei tratti paranoici, no, nel senso, quando il filosofo parla in terza persona, dice non dovete ascoltare me, dovete ascoltare il pensiero che io rappresento, ma questo, insomma, clinicamente è abbastanza simile alla paranoia, no, ecco, per liberarsi da questa tentazione paranoica, il parlare in prima persona diventa decisivo, diventa decisivo in quanto appunto atto che smobilita la pretesa di assolutezza, la mette tra parentesi, nel mentre la esibisce però, legando appunto l'atto del pensiero all'assoluta contingenza del fatto che per pensare bisogna avere un corpo, un nome, un cognome, una storia, una biografia, dei vissuti, delle emozioni, dei desideri, no, e insomma bisogna riconoscersi immortali e vulnerabili, no. Bisogna avere un io in sostanza, un io nella sua precarietà, perché sappiamo quanto sia precario l'io, no, Paci è stato anche lettore di Freud, è stato tra i primi filosofi in Italia a leggere, anche Freud a prendere sul serio la psicanalisi, proprio perché anche per la psicanalisi appunto si dà conto della precarietà del pensare, ecco, però se è ovvio che per gli psicanalisti l'io sia, come dire, un'istanza precaria, ecco, meno è ovvio lo è per i filosofi, ecco, Paci in questo diario, tra le altre cose, mi soffermo solo su questa, ovviamente, ma appunto verranno dette anche molte altre cose sicuramente più interessanti, e così, ma a me però per me va sottolineare questa cosa, ecco, nel scrivere, lo scrivere in questo diario sottolinea la precarietà del soggetto che pensa, lui, Enzo Paci, in prima persona, no, un signore morto oggi, di cui leggiamo pagine, destino comune si dirà, quello di essere mortali, no, Socrate mortale, eccetera, ho capito, però, che si leghi la filosofia a questa, a questo riconoscimento della finitezza, proprio però senza voler nulla togliere al fatto che la filosofia resta quell'operazione che consiste nel fondare, nel giustificare, nel rendere conto, il trascendentale in sostanza, no, interroversi sulle condizioni e possibilità di ogni esperienza possibile, la mia, la vostra, quella di Enzo Paci, però farlo, no, con questa sorta di capriola, no, perché c'è un corto circuito qui, ovviamente, no, farlo parlando in prima persona, rendendo conto del fatto che a farlo, a fare quest'operazione, è un tizio con un nome e cognome che firma delle pagine di diario. Mi fermo qua. E come si diceva prima, se non ricordo male, ora toccherebbe a Federico, ma sei tu, Veronica, che devi modulare. Come accordato, Federico, se vuoi prendere tu la parola, ti ringraziamo. Va bene, grazie, ringrazio molto Veronica, il professor Reghis, e la casa editrice, per avermi invitato, per aver organizzato questa presentazione. Io, sì, mi sono cimentato un po' con il pensiero di Paci nel mio corso di dottorato, nel lavoro di scrittura della tesi, e soprattutto ho preso in considerazione le varie fasi del pensiero di Paci per cercare di valutare in che modo potessi contribuire a chiarire alcuni aspetti della fenomenologia di Husser, e in particolare il concetto di teleologia in relazione al problema dell'unità della coscienza nella fenomenologia del tempo. Non voglio entrare troppo nei dettagli, ma mi piacerebbe fare un discorso che fuoriesce un po' dall'ambito del solo diario fenomenologico per spiegare qualcosa che però il diario fenomenologico mette bene in evidenza, cioè lo stile molto originale di riflessione di Paci, che è uno stile molto libero, capace di prendere in considerazione problematiche molto diverse tra loro, ambiti del pensiero molto, che possono sembrare anche in comunicanti come le scienze, la fisica, la biologia, ma anche la letteratura o la musica e l'arte. Quello su cui vorrei insistere è il fatto che spesso si crede che Paci sia semplicemente colui che ha introdotto in modo massiccio Husser la fenomenologia in generale in Italia, ma credo che in realtà ovviamente la sua importanza non si riduca a questo ma si oltre ad avere una ad aver proposto una proposta filosofica originale mette anche in chiaro alcuni problemi della filosofia di Husserl. In particolare penso che permette di prevenire certe interpretazioni idealiste o che quasi toccano la metafisica nell'ambito della fenomenologia. Cioè in particolare Paci a partire dal periodo in cui viene anche redato il diario e fino alla fine della sua carriera fino all'ultima opera più complessa che le idee per un'enciclopedia fenomenologica propone di rivedere certi concetti della filosofia di Husserl che in modo tali che non siano non possono essere interpretati in chiave sostanzialista come dice lui cioè che non siano ridotti a una forma di ontologia o metafisica e questo vale soprattutto per l'ego assoluto che spesso Husserl richiama fondamento della vita intenzionale della coscienza cioè un aspetto puntuale a volte trattato quasi come una qualità a sé stante indipendente dal resto della vita intenzionale e dal complesso dei vissuti che può avere il soggetto e Paci penso che appunto contribuisca bene in modo nitido a chiarire il fatto che questo ego assoluto è un un po' un espediente teorico per cercare di trattare più approfonditamente le problematiche della coscienza ma che non ha una che non deve avere un corrispettivo veramente identificabile perché non è un non deve essere considerato come qualcosa di effettivamente esistente in quanto tale o almeno non senza una serie di considerazioni teoriche ulteriori e credo che proprio questo questo aspetto della fenomenologia di Husserl sia chiarito da Paci in virtù soprattutto dello stile libero del suo fare filosofia delle sue riflessioni che è appunto uno stile libero esemplificato perfettamente nel diario fenomenologico in cui non si ritrovano temi centrali che prevalgono l'uno sull'altro ma in ogni caso sono tutti temi che poi vengono sviluppati in tutte le opere che seguono alcuni magari sono più fini a se stessi ma sicuramente quelli legati a Husserl vengono ripresi approfonditi molte volte fino alla fine della sua carriera mi piace mettere l'accento su questo stile libero perché è quello anche che in realtà è valso le maggiori critiche al lavoro di Paci che sono state diverse non sono state tutte non sono state feroci sicuramente perché comunque Paci ha stimolato il dibattito in modo proficuo anche quando veniva veniva criticato per il suo stile magari o per il suo poco rigore a volte vorrei prendere in esame soprattutto quello che è stato maggiormente criticato del suo pensiero cioè l'accostamento tra la fenomenologia e la filosofia di Marx che che ha portato al lavoro più noto cioè funzione delle scienze significato dell'uomo del 63 quindi di poco successivo al diario fenomenologico allora il progetto di leggere la fenomenologia attraverso la filosofia di Marx suscita una una grande diffidenza da parte di molti commentatori contemporanea a pace perché sembra piegare la fenomenologia a interessi che le sono estrinseci e secondo me invece proprio anche attraverso la filosofia di Marx pace riesce a fare delle considerazioni che sono molto originali e utili per comprendere il pensiero di Husserl il giudizio in generale sul tentativo di accostare la fenomenologia e Marx non sono campati per aree perché anche nel diario si legge che pace intende influenzare la filosofia e la cultura italiana con la fenomenologia non cita ancora Marx ma già si vede un forte impegno rivolto verso la società poi in funzione della scienza e significato dell'uomo addirittura arriverà a dire che l'epochè deve liberare l'individuo nella società sono parole sue che vestano molte perplessità per esempio cito solo Pietro Rossi che poco dopo la pubblicazione di di funzione della scienza e significato dell'uomo rimproverà pace per la sua ideologizzazione della filosofia che per lui ha contrassegnato tutto un periodo culturale nel quale cito direttamente il richiamo a fonti disparate spesso contrastanti tra loro fu posto al servizio di progetti di trasformazione globale della società oltre a Pietro Rossi poi anche Alberto Bobbio avrà da dire qualcosa su questo tentativo di leggere Fenomenologia e Marx insieme ma ci saranno voci critiche anche tra gli allievi di Paci in particolare mi piacerebbe riprendere quello che ha detto Giovanni Piana che in generale rimprovera cioè rimprovera non posso dire che rimprovera osserva che già in Husserl c'è una tendenza a un impegno storico storico e sociale che dovrebbe essere tralasciato quando uno fa filosofia e quindi è già Husserl che con l'idealismo trascendentale avrebbe un obiettivo etico dice Piana ma appunto poi sostiene che la dimensione etica dell'idea di Fenomenologia come filosofia della soggettività che era già presente tematizzata in Husserl diventa prevalente in Paci e così la proposta di un'analisi concreta dell'esperienza doveva rimanere sullo sfondo ed è senz'altro possibile affermare che l'idea di realizzare una dottrina dell'esperienza rimane del tutto estranea al programma filosofico di Paci e questo secondo me è un punto su cui appunto si può si può dissentire perché è vero che Paci non non arriva mai a una a una teoria compiuta il suo relazionismo è fatto di molte fasi e di molte fonti spesso diverse a seconda dei periodi però c'è sempre stata un'attenzione all'esperienza in quanto tale e ai temi della fenomenologia in quanto tali nonostante questi poi venissero spesso riportati alle problematiche che Paci vedeva e viveva e infatti Giovanni Piana poi non ha mancato di apprezzare il fatto che Paci si sforzasse di superare l'angustia intellettuale che molta filosofia del tempo sembrava avere e di aver cercato sempre di prendere in considerazione tutti i problemi che si presentavano erano passibili di un'analisi filosofica dunque sicuramente appunto Paci usava la fenomenologia cioè voleva servirsi della fenomenologia anche come l'intelaiatura di un progetto di critica culturale però questa non era non era infondata aveva alla base anche delle considerazioni decisamente teoretiche e non ideologizzate come spesso si tende a pensare questo anche proprio in virtù del tono che Paci spesso ha nelle sue riflessioni molto entusiasta molto rapito a volte da quello che legge e questo lo si vede bene nel diario però come anche il diario mostra ci sono delle riflessioni che sono puntuali e dettagliate quindi per tornare a quello che dicevo su come la filosofia di Marx abbia permesso a Paci di chiarire il ruolo dello statuto della soggettività e della coscienza basta citare solo il fatto che senza addentrarci troppo in quello che Paci recupera del materialismo dialettico perché sono veramente tante analisi molto spesso molto approfondite ma sicuramente Paci apprezza di Marx l'idea che l'uomo trovi la propria essenza nell'oggettivarsi attraverso il lavoro questa è una delle idee base ma il modo in cui attraverso questa idea rilegge l'analisi che Husser fa della coscienza mi sembra decisamente originale è un'idea che ovviamente si sviluppa in molti anni in molti saggi libri e corsi universitari soprattutto e quindi è difficile darne una darne una prospettiva veramente unitaria partendo solo dai testi di Paci comunque questo punto di vista dialettico sulla soggettività nell'ambito della fenomenologia comporta che l'unità della coscienza di cui parla Husser non sia mai qualcosa che si può dire immediato come invece sarebbe per esempio per chiamare una teoria odierna la teoria del minimal self di Dan Zahavi secondo quello che sostiene Paci dal punto di vista dialettico la coscienza è unificata solo attraverso una prassi non una prassi di lavoro ma una prassi di verificazione la coscienza cioè è una perché il soggetto è sempre immerso in un processo di verificazione e cioè di tematizzazione dei propri vissuti oggettivando se stesso cioè i propri vissuti l'io rende attuale l'intenzionalità anonima fungente impersonale che Husser cerca spesso di descrivere fenomenologicamente dovendosi di solito arrestare o perché mancano le parole o perché le pagine sono già troppe quindi Paci conclude che l'ego assoluto concepito come un neo puntuale permanente o fisso immutabile è un aspetto dell'esperienza soggettiva che non può non essere presupposto a una fase iniziale dell'analisi fenomenologica ma che deve essere poi lasciato perché la coscienza non è qualcosa di immediato ma è una complessità ed è come dice anche lui è l'unità del flusso dei vissuti in questo si avvicina oltre a riprendere certe posizioni che si ritrovano più che altro nelle ricerche logiche di Husser si avvicina alle conclusioni di Aaron Gurvich senza senza attingerli sebbene poi Paci abbia avuto un modo di avere a che fare anche con Gurvich non voglio entrare troppo nello specifico ma tutte queste riflessioni già si ritrovano nel diario e soprattutto quando fa certe riflessioni sulle somiglianze teoriche tra il pragmatismo e la fenomenologia e quindi anche anche nel diario sebbene si concentra soprattutto sul tentativo di illustrare il metodo fenomenologico nella pratica vengono proposti numerosi accostamenti e confronti che non subiscono poi sempre sviluppi dettagliati o magari sono fini a se stessi ma la maggior parte rappresentano la base di veri e propri filoni di ricerca che sono poi approfonditi da Paci negli anni quindi penso che il diario davvero presenti esemplifichi bene il merito maggiore di Paci e del suo modo di fare filosofia che è quello di non precludersi nessuna direzione di ricerca anche per quanto riguarda le teorie o le prospettive di cui non è inizialmente convinto questo vale anche per la fenomenologia perché nel 1940 in pensiero esistenza di valore Paci fa un'osservazione critica in realtà su Husser criticando l'intransigenza razionalistica poi tutto questo ovviamente questo giudizio si ribalta e anzi diventerà Husser diventerà centrale per lui e questo quindi voleva essere solo un tentativo di mostrare come anche nella libertà di pensiero di Paci ci sia se non un rigore come lo si intende solitamente una preoccupazione costante che se non ha uno sviluppo continuo ha comunque sicuramente una una ripresa costante come è quello anche che l'insegnamento principale che trae la Husser dell'Immerviglia e con questo ho concluso grazie grazie a te Federico allora passo la parola a Pieraldo Rovatti lo ripeto Pieraldo Rovatti è stato docente filosofo di cui leggiamo gli scritti ma anche allievo di Paci grazie ancora grazie 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 ringrazio anche l'editore che mi ha permesso di io ho accettato con entusiasmo di fare questa prefazione alla riedizione del diario io avevo promesso che avrei scritto poche pagine ne ho scritte poche ma sono poche pagine che sono molto dense e potrebbero essere sviluppate in molte di più io volevo essere rapido beh ci sarebbero tante cose da dire per esempio ridendo vorrei far notare a Giovanni Leghissa che oggi non è il 30 maggio ma il 30 aprile e forse questo potrebbe essere un elemento da interpretare chi lo sa cioè tu vuoi essere avanti e tra le cose che ha detto Tossa che mi interessano molto perché io mi aggancio lì in sostanza io prendo a lavorare con pace sulla questione del bisogno mi sembra strano che finora nessuno l'abbia nominato è un seminario importante sul tema del bisogno al quale io ho partecipato da studente o da neolaureato adesso non ricordo da studente poi viene fuori il mio interesse per il rapporto tra fenomenologia e marxismo per cui ho ascoltato con moltissima attenzione quello che ha detto Federico Tossa e poi si va avanti si va avanti con con la teoria dei bisogni in Marx della Agnes Heller che ha avuto un peso in tutta questa questione a metà degli anni 70 quando già e questo bisogna ricordarlo perché in definitiva non possiamo dire la realtà c'è poi non la nominiamo ci sono delle realtà di me c'è il 68 adesso io non mi fermo però lo ricordo e negli anni 70 c'è una situazione come dire di movimento tra virgolette che Out Out cerca di registrare sulla quale diverse posizioni della rivista intervengono mi ringrazio continuo a ringraziare e ringrazio anche la presentazione la presentatrice per i titoli che ha ricordato delle cose che ho scritto vorrei però dire una cosa che se io mi identifico con qualcosa di scritto mi identifico con la storia delle cose che ho scritto e non scritto cioè scritto e elaborato e lavorato perché venissero scritte sulla rivista che si chiama Out Out Paci me l'ha in qualche modo lasciata in eredità alla sua morte già da prima già un paio d'anni prima io ero nella direzione e la rivista esiste ancora oggi non stocca a me a dirlo ma credo che esista abbastanza bene di salute il fatto che stia abbastanza bene di salute è fornito anche esemplificato e surrogato anche dal lavoro che abbiamo appena finito di consegnare e che adesso verrà stampato che sarà il prossimo numero della rivista che avrà come titolo il gesto fenomenologico voglio ricordare questo perché evidentemente c'è una certa coincidenza tra quello che stiamo facendo oggi e il lavoro che certamente anch'io ma qualcuno anche dei presenti in particolare Giovanni Leghissa che ha scritto anche un testo per questo fascicolo hanno fatto per un fascicolo che non è soltanto un fascicolo in passato ma rifacciamo un fascicolo sul gesto fenomenologico poi domani ne faremo un altro poi un altro ancora cambieremo argomento eccetera eccetera no giusto cambiare argomento giusto che la rivista diciamo documenti delle questioni importanti della cultura contemporanea però la faccenda del gesto fenomenologico è una faccenda intrinseca intrinseca al lavoro di out out fin dall'inizio intrinseca alla non facile definizione dell'eredità che Pace ha lasciato e quindi anche per farla breve non voglio allungare troppo anche il diario fenomenologico io pregherei di vederlo e di leggerlo in questa chiave nella chiave di una eredità che Pace ci lascia su questa questione del diario fenomenologico adesso io non posso e non voglio dilungarmi ma io mi ho azzardato in quelle tre paginette alcune cose in particolare il titolo ho azzardato il titolo che ho chiamato titolo di quelle tre paginette che ho chiamato la fenomenologia è un diario credo che in parte questo sia già venuto fuori da alcune cose che ci sono dette oggi è venuto fuori che questo azzardo certo c'è perché chiaramente la teologia non è un diario nel senso tecnico del diario ma neanche il diario fenomenologico di Pace come volume non è un diario nel senso ovvio e tecnico del termine ma nel senso come dire di un rapporto al giorno per giorno e alla quotidianità per cui vi segnalo questo intanto scorono le righe vi segnalo questo titolo perché è una provocazione alla quale che io ho fatto e che sostengo alla quale mi ricollego aggiungo un'altra cosa prima di passare a una serie di riferimenti a delle parole chiave uno l'abbiamo già detto cesto aggiungo quella che può essere oggi l'impressione che noi abbiamo dinnanzi a Pace parentesi e perché l'abbiamo dimenticata perché in definitiva Pace lo abbiamo dimenticato lo si legge poco molto poco quali sono i motivi di questa difficoltà ce ne sono parecchi ne segnalo due ma ce ne sono tanti il primo motivo è che noi riteniamo che questo discorso di Pace che questo suo modo di proporre la fenomenologia oggi risulti abbastanza ingenuo cioè non siamo così ingenui leggiamo il diario fenomenologico e diciamo beh insomma siamo così ingenui andiamo a sentire una musica vediamo un dipinto leggiamo un'opera letteraria ci viene un'idea filosofica siamo più scaltri allora la domanda che io mi faccio la butto là perché io ho la risposta ce l'ho e la sto dando la domanda che io butto là è questo è ingenuo Pace è davvero ingenuo Pace oppure siamo noi che siamo ormai sordi sordi nel nostro cinismo attuale sordi a che cosa e qui faccio un riferimento a una pagina del diario significative sordi a quel canto delle sirene che a un certo punto durante un periodo di vacanza in una delle pagine del diario Pace sente una notte e ascolta siamo sordi a quel canto delle sirene perché ormai siamo cinici conosciamo tutto no siamo mercanti ormai anche di tutto ciò che è cultura bisogna dirla questa cosa perché altrimenti sembra che tutto sia uguale che la tecnologia si possa studiare negli anni 50 negli anni 60 eccetera eccetera fino a oggi e non cambi nulla no siamo cambiati noi siamo peggiorati noi e questo è una questione che si riverbera in tante a tante facce questa questione una faccia è qualcosa su cui non possiamo farci quasi nulla nel senso che io metto in evidenza una cosa da per essere stato allievo allievo di Pace ma credo che qualun chiunque sia stato allievo di Pace ce ne sono tanti di allievi di Pace in circolazione che potrebbero essere interrogati io sono stato uno degli ultimi in definitiva io sono arrivato ai primi anni 60 in qualche modo quando finisce il diario lui ricorda a un certo punto una pagina del diario ma insomma io che cosa dico a questi studenti come posso far funzionare la sintesi tra la crisi delle scienze europee di Husserl e la critica della ragione di retica di Sartre perché Sartre è molto importante per lui all'inizio degli anni 60 e lui si pone questi problemi che poi sono quelli quando io arrivo all'università il primo il primo corso è su questo il secondo che ascolto è su Levi-Strauss e sulla pensée sauvage sul pensiero selvaggio Pace arrivava in aula con dei testi così come fece poi sulla rivista Out Out quando parlava di Lemo di Sartre che non erano ancora tradotti in italiano che erano appena usciti in francese e in altre lingue e aveva quindi un potere di anticipazione diciamo del discorso filosofico che lo interessava ma quello a cui volevo arrivare è il rapporto tra il detto e lo scritto tra la parola detta e la parola scritta accenno nelle tre pagine di introduzione a questa questione su cui non è detto che si debba essere d'accordo anzi è facile non essere d'accordo con quella che è l'ipotesi che butto là io e cioè che per noi è stato molto più difficile è ancora molto più difficile e per questo è importante il diario leggere funzione delle scienze e significato dell'uomo che adesso è stato accitato giustamente che non le pagine di questo diario perché le pagine di questo diario portano dentro come dire il suono delle sirene della lezione parlata portano dentro questo mentre in funzione delle scienze e significato dell'uomo l'intellettuale Paci elabora da intellettuale con tutte le derive che hanno che noi quando scriviamo abbiamo perché non possiamo scrivere quello che ci viene in mente dobbiamo stare a certe regole a certi regimi di discorso ma quindi una certa come dire convenzione linguistico-filosofica allora c'è un certo punto scusate se salto di qua e di là ma sono tantissime le cose sarebbero tantissime a un certo punto lui dice nella una nota del 22 aprile 1957 dice il linguaggio che diventa fisionomia e gesto possiamo prendere questa cosa a bercela con un bicchier d'acqua e dire vabbè andiamo avanti no no perché questo è il punto tra linguaggio e gesto c'è un salto c'è un salto la fenomenologia come linguaggio la fenomenologia come insieme di opere di Husserl la fenomenologia come qualcosa che possiamo studiare lì davanti a noi come una materia di studio non ha oppure può non avere nulla a che fare con il gesto fenomenologico perché il gesto fenomenologico è qualche cosa che tutto sommato lacera la chiusura cultural filosofica anche in questo caso del linguaggio e va sul piano del gesto e quando sei sul piano del gesto sei sul piano dell'etica e della politica e non soltanto sul piano della filosofia e di una cultura di tipo come dire disciplinare com'è la filosofia come sono altre altre discipline di ordine teorico questo è il punto è il punto per cui quando una persona da se stesso attraverso le lezioni che fa attraverso il parlato attraverso quello che ti ha detto in prima persona perché l'in prima persona vera non è tanto quello che scrivi dicendo adesso scrivo in prima persona ma essere in prima persona mi fermo perché qui c'è un problema possiamo fermarci e parlare di questo tipo di comunicazione a distanza che stiamo usando anche in questo momento siamo in prima persona vogliamo esserlo come si può fare in modo che questa comunicazione che di per sé non sarebbe quella della prima persona diventi qualcosa che accenna alla prima persona capite che il gesto va in questa direzione e quindi dire che il linguaggio è fisionomia ma insomma cosa sta scrivendo il suo cervello sta andando a rotoli fisionomia il linguaggio è fisionomia di chi beh di chi parla e di chi ascolta ecco il punto la relazione è una delle questioni fondamentali che Pace aveva già toccato nel suo libro precedente sul relazionismo ma da ora in poi va avanti giocandoci la questione dell'intersoggettività giocandoci la questione Marx insomma per non portare via tempo eccessivo quello che io consiglierei e consiglio in quelle tre paginette a chi legge il diario è di stare attenti a un elenco di parole chiave la prima è il gesto la seconda è la parola esercizio esercizio ma non è si può dire non l'hanno detto in tanti anche recentemente la filosofia è un esercizio sì però bisogna spiegare un po' di più non è che andiamo in palestra anche questo si è scritto recentemente parlando del Platone no? e l'esercizio è il scusate grazie a tutti Scusate, si sente adesso? Sì, sì, va bene, va bene. Si sente? Sì, sì. Ecco, l'esercizio di caricare il mio dispositivo io non l'ho compiuto, ma l'esercizio di cui parlavo sono tante cose. L'ospite ti ha invitato ad avviare il video, ok? Ma io l'ho avviato il video. Allora, comunque l'elenco delle parole che stavo facendo, gesto, esercizio, relazione, che diventa tutte quelle cose che dicevo. E poi si può andare avanti. Un'altra parola che abbiamo detto un secondo fa è proprio quella parola che è legata al tono, allo stile, al ritmo. Che sono parole che compaiono diverse volte in modo importante nel diario fenomenologico. Lo stile. Lo stile di che cosa? Non lo stile di quello che io dico parlando, non lo stile di quello che io dico quando scrivo, ma lo stile di vita. Il gesto fenomenologico ha a che fare con lo stile di vita. Parentesi, perciò, quando parliamo del rapporto tra fenomenologia e marxismo, dobbiamo sempre guardare questo aspetto. Quello che è in gioco è il fatto di mettere al centro e in discussione lo stile di vita. E non è poco questo, perché se noi facciamo qualche passo in più andiamo a sbattere e magari se riusciamo anche a buttare giù tutte le pareti dell'ideologismo e delle ideologie. Perché l'ideologia è uno stile di vita che non ci piace. Certo anche l'ideologia è uno stile di vita, ma è quello che non ci piace. E quello che la fenomenologia quando entra in contatto corpo a corpo con Marx e il marxismo è quello che tutto sommato è il primo compito della battaglia di ciò per cui bisogna combattere, contro le ideologie. Non fatemi raccontare tutto quello che scrisse allora a Quaderni Piacentini per dire che il rapporto tra fenomenologia e marxismo erano delle panzanate. Errori micidiali li possono fare tutti. Non solo quella roba lì non era una panzanata, ma ancora oggi è del tutto inattuale. Ancora oggi, infatti noi abbiamo messo il marxismo da parte, l'abbiamo messo un po' di nascosto, l'abbiamo messo in dispensa. Frigorifero no, che si conserverebbe in dispensa e già conserva di meno. Ma perché? Perché quella faccenda dello stile di vita che era collegata anche al tema del bisogno non è entrata in gioco nella faccenda. E allora, tra le molte cose che, qui mi sono messo giù un appunto, Lovagno 1960, sempre dal diario, lui va a vedere i manoscritti di Husserl, no? E rimane colpitissimo da questa quantità di cose importanti che ci sono nei manoscritti. E fa una considerazione molto interessante che ciascuno di noi dovrebbe tenere presente quando studia e quando fa il suo mestiere intellettuale. Dice, mentre è lì a Lovagno, in biblioteca, nella sede, diciamo, dove sono conservati e vanno scritti di Husserl, scrive, leggo troppo in fretta. Capite cosa vuol dire questo? Pensate alla fretta che oggi noi abbiamo di leggere, nel leggere, alla fretta che noi abbiamo oggi nel consumare con una lettura rapida un libro, che fa parte di quell'universo di fretta, entro cui è la nostra cultura, da lì dovremmo partire. Ecco perché io a un certo punto mi sono permesso, sto guardando l'orologio e adesso smetto, mi sono permesso nella mia piccola storia di fare, come dire, di gettare un ponte molto, molto, molto arduo, no? Molto osè tra la fenomenologia e il pensiero debole. Perché o noi andiamo in questa direzione, cioè nella direzione del pensiero critico, che funziona proprio come elemento che irradia lo stile di vita che abbiamo, e scusatemi se sono molto franco, molto distanti da quello che è il normale stile di vita nostro di oggi, non c'è quasi traccia di questo. Ed era questo invece il problema che si poneva giustamente, secondo me, giustamente, dico giustamente, della mia osservazione, Paci, perché il problema certamente era di fare rimbalzare Marx su Husserl. Io lo dico perché esordisco, dopo aver scritto una, che era la mia tesi di laurea, un libro su Whitehead, esordisco con una critica scientificità ai Marx presso Feltrinelli e questo intervento non mi viene mica mai perdonato ancora oggi, ancora oggi. E lì mi permetto di fare vedere, proviamo a leggere i manoscritti del 44 di Marx con dentro un taglio fenomenologico. Allora il problema non è che soltanto che Marx politicizza la fenomenologia, perfetto, benissimo, la fenomenologia non può viaggiare in alto, no? Non può volare, no? La fenomenologia è concretezza. Quindi bene che si passi attraverso Marx, ma questa concretezza la possono dare anche tante altre situazioni. Quella di Marx è molto importante, forse quella decisiva, ma è ancora più importante il contrario, e cioè quello che la fenomenologia è in grado di dare al marxismo e questo che ha fatto incazzare tutti. Qua del ripiacentino che nominavo prima che mi ha dedicato una stroncatura divertente, oggi io la faccio leggere così ai miei figli, no? Perché è un fatto significativo, insomma. No! No! Vada retro Satana! Il vada retro Satana riguardava esattamente il fatto di mettere dentro, come dire, l'elemento dell'esercizio, del gesto fenomenologico nella lettura di Marx. Non bisognava farlo. E poi non lo si è fatto neanche. E oggi abbiamo le spese di questa faccenda, paghiamo con gli interessi le spese di questa faccenda, per cui oggi non è più possibile parlare di Marx. Dopo avverrà il Tusser, che io nel mio libro metto sotto torchio, no? Dopo avverranno tante altre cose, ma oggi, ma parliamoci chiaro, quanti dei giovani che oggi, come dire, hanno l'età che sarà quella della next generation, quanti di questi giovani hanno letto 10, 20, 30 pagine del capitale di Marx? Provate a fare questa inchiesta. Scoprirete le cose veramente allarmanti. Praticamente nessuno di questi giovani, ma neanche molti, molti, molti degli intellettuali che oggi dicono la loro, parlano, scrivono, intervengono in televisione, intervengono nei social, eccetera, eccetera, non si può dimostrare che abbiano letto una pagina di Marx. Ma cosa succede leggendo una pagina di Marx? Diventi stupido? No. Diventi così intelligente e geniale? Ma neanche. Però allora, se non hai letto una pagina di Marx, non vuoi leggerla, perché non ti interessa, e allora lascia stare. Lascia stare il discorso della critica delle ideologie, perché è quella roba lì, cioè la pagina di Marx, e la critica delle ideologie, in fondo, stanno abbastanza insieme. Avrei centomila altre cose da dirvi, mi fermo. Grazie. Grazie mille. Grazie perché attraverso queste parole dedicate a Pace abbiamo anche avuto il piacere di ripercorrere la sua filosofia, nel senso di filosofia di Rovatti, e anche di ridomandarci, a partire dalla specificità del gesto fenomenologico, che cos'è filosofia, forse anche. Allora, prima magari di aprire il dibattito, ricordo, per chi poi volesse leggere e rileggere il diario, le parole chiave che ci ha portato Pieraldo Rovatti, che magari possono essere un buon modo, appunto, delle buone indicazioni per la lettura delle pagine, quindi gesto, esercizio, relazione, tono, stile, ritmo, e aggiungiamo anche bisogno, che è stata la prima a essere menzionata. Nel caso in cui Massimo Cerulo, spero di pronunciarlo giusto, volesse intervenire, io sarei contenta, saremo tutti grati, altrimenti apro il dibattito. Grazie Veronica, io sono solo contento di partecipare, sì, è Cerulo in realtà, perché è piano, ma sono contento di partecipare, sono contento che Rovatti abbia accettato l'invito, il nostro invito della Cassettrice a scrivere quelli che volevano essere un po' dei ricordi, noi volevamo che Rovatti andassi un po' a scuotere i suoi ricordi, dell'epoca si parlava prima dei corridoi della Statale, e quindi quelle paginette secondo me sono molto dense e sono anche fuoriere di molte riflessioni, proprio per chi si avvicina a Paci oggi, o magari scopre Paci oggi. Ad esempio io porterò una riflessione, una comparazione Paci-Bourdieu, che secondo me hanno una linea teorica molto vicina, non a caso Pierre Bourdieu viene che è un sociologo, il più citato sociologo oggi nella comunità scientifica mondiale, ma chiaramente Pierre Bourdieu viene dalla normale, dall'école normale superiore, quindi viene dagli studi di filosofia, con Foucault e con Derrida. Quindi una riscoperta di Paci che può anche essere interdisciplinare. Questo mi fa piacere dirlo, poi avremo occasione di tenere altre presentazioni, di discutere di parole chiave, di tematiche di Enzo Paci, speriamo anche presto a Milano, e quindi sono solo contento che siamo riusciti a farlo emergere da un oblio editoriale che non è mai stato, però ci tengo a dirlo, un oblio accademico, perché si è sempre parlato di Paci, nei consessi, nei corridoi, nelle chat, nelle telefonate, si è sempre discusso di Paci. Io ricordo con gli amici della Fondazione Bruno Kessler, loro hanno una chat di studiosi di Enzo Paci, quindi era davvero una lacuna che con Diego Giordano e con Ortotes volevamo colmare, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a fare sì che potesse essere colmata, oltre a Rovatti, davvero ringrazio tanto Paolo Iedloschi, perché se io mi sono messo a riprendere Paci e a ricopiare tutto Paci dal cartaceo del 61 al digitale, è stato perché Iedloschi da anni è lì che mi batte su Paci e dice guarda che è il caso di... Iedloschi ha seguito le lezioni di Paci, quindi per questo lo sto citando, e per questo ci siamo riusciti, quindi sono solo contento, grazie. Grazie a lei. Se qualcuno vuole intervenire anche su sollecitazione. Scusa, mi fai dire un aneddoto di tre secondi? Anche cinque. No, 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 non voglio portarvi a tempo. Per chi era Paci in sostanza? Cos'era Paci, no? Allora, l'Università degli Studi di Milano ci sono dei luoghi interni meravigliosi e io incontro uscendo dall'Istituto Paci che stava entrando e facciamo due chiacchiere, no? Parliamo per un po'. Lui poi si ferma e mi guarda e dice però dice delle cose che non sono completamente stupide. Perché non ti laurei con me? E io ho risposto, professore, perché sono già laureato con lei quattro anni e sono sua assistente. Ah, sì, hai ragione. Questa è la Paci. Allora, chi vuole prendere la mano? È Paolo Jedelowski. Sì, volentieri. Ciao Paolo. Buongiorno, ciao. Diego, ecco, Giordano, volevo infatti ringraziarti per questa iniziativa che hai seguito. Senti, grazie a tutti. Sono in preda al piacere proprio a sentire queste riflessioni. Il fondo è questo che volevo manifestare innanzitutto. Vabbè, gli aneddoti li lascio a Rovati. Io l'ho seguito un anno, Paci. Però poi andai nella sua stanza a chiedere di fare la tesi. L'avevo fare su Karel Kosik. Lui era un po' perplesso. Poi comunque lui era, erano gli ultimissimi anni, stava poco bene. Io andai soldato. Poi venne seguito dal gruppo di Rovati. In realtà poi Vigorelli fu a seguirmi nella laurea. che feci su Henri e Febvre poi invece. Ma sì, ricordo di Paci, in aula non è che si capisse tanto. Si vedeva uno che stava pensando ad alta voce. E però il gesto agisce. Il gesto fa. Fatto sta che io mi ricordo da studente che andai, dopo aver letto il diario fenomenologico, presi su e andrai a Pavia una notte in treno per trovarmi all'alba sotto le rosse torri che compaiono nella prima pagina. Probabilmente convinto di essere illuminato, cosa che almeno in quel momento non avvenne. Mi trovai addormentato su una panchina. Però questo libro qua io credo che ha agito in me per decenni. Per questo che poi ne parlavo a Massimo. e vabbè io poi mi sono trovato a insegnare sociologia, però l'ho fatta sempre in chiave filosofica, il che però è stato accettato dentro all'Accademia, va bene. Ma per questo mi è piaciuto molto il titolo che ha dato Pieraldo alla sua prefazione che va insieme anche con una cosa che ha detto Leghissa all'inizio. Allora il titolo della prefazione come me lo sono rissegnato che non ho qui l'edizione nuova ho davanti ancora l'edizione vecchia e la filosofia, la fenomenologia è un diario, dico bene? Sì, sì. E Leghissa all'inizio diceva che questo dire io è proprio importante per capire cos'è la fenomenologia. È un dire io, ecco, è in un modo piuttosto inattuale, cioè non è l'io narcisista, l'io arrogante, prepotente, visibile, non è quella roba lì. È un io modesto, ma è un io necessario. Dire io è riconoscere la propria situatezza o la situatezza, è proprio pensare, in un corpo, in un momento, in uno spazio. È un gesto di responsabilità, dire io. E essere io, beh, quello è un progetto più o meno inattingibile, ma va bene, però è un progetto, esserlo. La fenomenologia io l'ho sempre sentita molto come legittimatrice di questo riconoscere che sono io che ho esperienza e la fonte della mia conoscenza è la mia esperienza. Dunque è su questa che devo piegarmi e renderne conto. Ma perché nell'esperienza cosa c'è? Ma mica ci sono solo io. C'è la mia relazione col mondo e tutto ciò che vengo a sapere in fondo del mondo. Questo mi è piaciuto, non so se come l'ho detto, per me è rimasto come una, sì, eredità, la parola che Piero Aldo ha usato, nonostante appunto direttamente da Passi non abbia avuto nulla o avuto semmai da Rovatti, veramente da tutto il gruppo che ruotava intorno a lui allora e sono parecchi anni, sì, effettivamente. Ecco, questo volevo dire. Poi, non so se vuole farlo Diego o Massimo, a me veniva voglia di leggere qualche riga del diario, ma visto che ho la parola lo faccio, perciò vorrei risentire il suo gesto, dai. Pavia, 14 marzo 1956, piazza Leonardo da Vinci, isolata, quasi chiusa, le torri medievali, scabre rosseggianti, le rondini, le circondano. Mi siedo su una panchina isolata dopo le lezioni all'università. sento di dover ricominciare, di avere sbagliato, non aver perseguito con chiarezza, con tenacia, con profondità quello che cercavo. È vero, in ogni fatto, in ogni cosa isolata, si rivelano legami con tutte le cose, con tutti gli altri fatti. e ogni fatto è individuato, anche se ha la forma di tutti gli altri fatti del suo tipo. Individuazione. Ma cosa vuol dire? Pensiero in atto, in effetti, è molto vicino, non è uguale al gesto orale, questa scrittura qui. È effettivamente un altro tipo ancora di gesto, però che ha ancora tanto del gesto, cioè di qualcosa che sta succedendo. Ecco, non che viene esposto dopo nel libro accademico. Io lo trovo un libro bellissimo e sono veramente grato a Massimo per il suo lavoro. A Pieraldo per aver fatto la prefazione, a Diego come editore e a voi per aver ospitato questa presentazione. Grazie ad ancora, davvero. Grazie a lei. Qualcun altro che vuole intervenire, che abbia voglia di fare una domanda, chiedere qualche curiosità? Giovanni, vuoi incitare i tuoi studenti presenti? Eh no, sì, abbiamo appena, ho visto qui i nomi di persone che hanno sentito il mio corso sulla fenomenologia, sulle sintesi passive, insomma, tema legato, direi, a questa questione della narrazione dell'esperienza nel corso stesso di esperienze. Quindi magari solleciterei qualche studente a intervenire approfittando della presenza di Professor Rovatti qua e di Federico. Senti, senti, Giovanni, io non sono un tuo studente, però mi piacerebbe sapere in un modo molto sincero, però tu sai farlo, che cosa ritieni, che giudizio dai delle cose che ho detto prima? Sono farsi esagerate? Assumibili? Che no, credo che, a parte il fatto che tu in parte testimoni le cose che dici, questo vale però credo un po' per tutti quelli che prendono sul serio un lavoro filosofico appunto in prima persona, perché secondo me non si può far finta di far filosofia in prima persona, uno dice chiaramente mi occupo di filosofia analitica, di ontologia, queste cose qua, rinuncio alla prima persona e non tematizzo neanche la faccenda. Se uno dice che la filosofia è fatta in prima persona e in qualche modo anche se non volesse farlo, lo fa con i rischi che questo comporta. Credo che l'operazione filosofica che ci suggerisce pace, che ci suggerisce però secondo me la fenologia, in quanto è quel modo di fare filosofia che deve per forza ospitare al suo interno anche la psicanalisi, perché questo è un po' lo snodo, insomma, ho scritto due pagine importanti su questo, ma paci stesso, lo dicevamo prima, è stato il primo tra i primi filosofi italiani a dire, guardate, bisogna leggere anche Freud, no? Se si ospita questa dimensione qua, che è quella del desiderio, del corpo, ma anche di ciò che non si sa, no? L'autobiografia in sostanza, il fondo scuro della nostra esistenza, ecco, questa roba qua viene fuori, in questo senso ogni far teoria è anche un far teoria autobiografico, con i limiti, i rischi che questo comporta, no? Perché uno sta a dire, vabbè, ma allora che mi racconti a fare? Vabbè, ti racconto quello che ho pensato, né più né meno, e qua sta, credo, la dimensione anche dell'esercizio, no? Che si tratta di fare, esponendosi appunto al rischio. Ti posso provocare ulteriormente, Giovanni? Dimmi. Io ho parlato e sono convinto che si possa parlare e mi batterò perché se ne parli, di un ponte tra fenomenologia e pensiero debole. Tu cosa ne pensi? Beh, pensiero debole è costitutivo del gesto fenomenologico, secondo me. Non si può fare a meno di interpretare l'epochè nel modo in cui tu, ma anche Paci prima, tu però hai radicalizzato la questione in cui avete fatto, nel senso che o si prende sul serio la sospensione della pretesa di catturare il proprio discorso o il gesto filosofico fondativo diventa una metafisica che va benissimo per carità, niente di male nel costruire metafisiche, i filosofi sono anche pagati per questo, per amor di Dio, se non fanno l'orchi deve farlo, ma se ci si interroga sul gesto con cui si comincia, ebbè lì un po' di debolezza probabilmente ci vuole, probabilmente, necessariamente, secondo me, perché se no non si va fino in fondo nella paradossia, nella paradossalità della fondazione, questo è un po' il problema. Dopodiché, è chiaro, pretendere di vivere secondo il pensiero debole è autocontraddittorio, perché vorrebbe dire allora che uno pensa di, è quella che banalmente gli analitici chiamerebbero la fallaccia performativa, ma stai dicendo una cosa, ma stai dicendo anche che non ne sei convinto, ebbè, è tutta lì la questione, è tutta lì credo la questione, assumessi il rischio di dire una cazzata colossale, no? Ma io vi sto dicendo una cosa, è ovvio che sono convinto di quello che vi dico, se no, direi, ci ho studiato, ci ho pensato, però potrebbe anche non stare in piedi. Credo sia un po' questo. Mi perdonate se... Così la vivo anch'io, ma se ti conosco un po', forse l'hai vissuta anche tu in questi anni. Mi perdonate se intervengo ancora un attimo in questo momento, perché non è che poi Giovanni e io parliamo spesso, quindi ne approfittiamo. Allora, tu dici la psicoanalisi, ci intendiamo, io sono un lettore molto attento di Lacan, almeno cerco di esserlo, ma lasciamo perdere. Vediamo che cosa si intende dentro il mondo psicoanalitico e in particolare quello che ha detto Lacan sul fatto che c'è un'impossibilità nell'amore. dice Lacan l'amore è impossibile, ma allora l'amore è impossibile vuol dire che noi dobbiamo smettere di amare? No, tutto il contrario. Quindi quell'impossibile lì, quel paradosso lì, quel paradossale lì è in qualche modo la linfa che ci permette di andare avanti su molte cose importanti. Sei d'accordo? Sì. E qua posso dire solo sì. No? Nel senso che qua non... Puoi dire anche no, eh? No, ma no, nel senso che qua poi la faccenda non tocca solo la filosofia. abbiamo litigato in pubblico tantissime volte, quindi possiamo... Mentre stasera siamo... Sono d'accordo. Sono d'accordo. Basta, adesso scusate se ho preso troppo spazio. Mi posso inserire brevemente? Ego. Gli diamo il permesso, ma sì, dai. Certo. Io poi dopo ho studiato sociologia e ho fatto sociologia. In sociologia la prima persona che ho incontrato in un convegno e ho detto ah, ecco, ci posso stare è stato Franco Crespi e Franco Crespi era uno di quelli che hanno scritto dentro al libro originario, no? Sul pensiero debole. Voglio dire che porta un poco acqua al mulino di massimo dell'interdizionalità che stiamo dicendo. Scusa, stanno uscendo 2.640 pagine di Gianni Vattimo che sono le sue opere complete presto la nave di Teseo e faccio una pubblicità. Bene. Tutte le opere di giorno 20 maggio escono. Va bene, grazie. No, invece io facevo un inserto pubblicitario a favore del rapporto che tu metti tra fenomenologia è quello che aveva accettione un po' diversa ma insomma il pensiero debole. Dicevo sì, a me è sembrato abbastanza ovvio venendo comunque dalla formazione in cui la fenomenologia e il marxismo c'entravano mi trovavo a incontrare in sociologia Franco Crespi che era uno di quelli che avevano scritto che ero debole e poi mi trovo anche molto bene nella tua risposta alla paradosso del ma come dici una cosa di cui non sei convinto certo ma è di che si sta la responsabilità è esattamente quella lì cioè se sono convinto fino in fondo in genere penso beh si vede che ho pensato ma cazzata d'altra parte mi assumo la possibilità di dire quello che ho pensato perché quello ho e posso offrire e poi insieme vedremo di andare avanti ma certo non si smette né di pensare così come non si smette d'amare perché eventualmente è impossibile mi sento molto bene con queste cose che hai detto qualcun altro che voglia intervenire per esempio tu stessa io avevo una curiosità ecco si capisce dalla punta del naso potrebbe arrivare fin lì effettivamente no non so io la vedo di fronte no la mia curiosità anche se guardo spesso i soliti ignotti alla televisione che mi piace moltissimo però non vedevo il tuo naso bene onestamente strano è il primo che ve lo dice va bene non lo vedevo non lo vedevo io avevo una curiosità per Federico Tosca in verità visto che quando prima ci siamo incontrati prima della bio Federico ci ha un po' così illustrato della sua tesi di dottorato e ha detto che ha scritto un capitolo anche su trattandosi di una tesi sulla teleologia e l'unità della coscienza e ha scritto un capitolo anche su Ruyère che è il filosofo di cui io studio ero curioso di sapere se Paci fosse un lettore di Ruyère quindi se qualcuno può rispondermi su questo scritto come? Ruyère glielo scrivo R U Y E R io non ho mai sentito Paci citare Ruyère però ne so poco insomma lo frequentavo lui poi non mi riconosceva quindi E invece? No ovviamente ho trattato di Ruyère in quanto ho cercato un po' di aprire il dialogo di Paci sulla sulla natura perché il suo relazionismo in buona parte si pone anche come una prospettiva filosofica sulla natura e ho voluto cercare di confrontare un po' come il relazionismo sulla tematica della natura quindi anche sulle problematiche dell'interiorità nel vivente si avvicinino almeno per certi aspetti al problema dell'unità della coscienza quindi Ruyère è stato insieme ad altri autori un po' un espediente per allargare il campo e trovare dei concetti tu sei sicuro della pronuncia sì 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 con la R finale con la R finale siccome è un autore che come io ho detto non ho nessun problema ripeto non conosco Ruyère quindi faccio bella figura se dico Ruyère benissimo perfetto sì sì grazie allora scusa ti ho interrotto io ho interrotto non volevo interromperlo no no io ho detto quello che dovevo dire era appunto solo per chiarire grazie io posso fare una domanda a lei Pieraldo ma spacciata no la puoi fare solo se mi dai del tu ok ti faccio una domanda molto spacciata ma come ti permetti di darmi del tu che abbiamo una distanza di anni dai che cosa ha significato per te essere l'allievo di Paci perché io immagino che non debba essere facile essere allievo di qualcuno rispondo subito sì significa che da quando è morto a dieci anni dopo quando è uscito un fascicolo di out out che ho messo in piedi io su Paci in cui io ho fatto un testo lo dico ma non perché non sono non mi piace citarmi più di tanto ma comunque quel testo lì è un testo che si intitola viaggiatore senza biglietto Paci e Sard è un testo che anch'io ogni tanto dimentico poi lo vado a rileggere non è che lo vado a rileggere tutte le sere cioè l'ho riletto una volta e ho detto e ho detto no voglio dire per dieci anni io non sono riuscito a dire una parola su Paci e odiavo odiavo quelli che ne scrivevano sopra non voglio fare i nomi perché sono amici no ci sono affrettati sei mesi dopo un anno dopo a scrivere sì no sono d'accordo sono contro eccetera io ho dovuto come dire ponzare riflettere meditare stare in pausa per dieci anni dopo ho avuto il coraggio di dire qualcosa non so se è una risposta sì in modo suo è chiara grazie su questo punto però faccio un'altra domanda io a Novatti non sentiva di scrivere su Paci ma in quel frangente subito dopo la morte dialogava con Paci sì però ci diamo del tu tutti dai è vero o no? sì va bene è immediato del lei tu sai non ti sei accorto ma non conoscendoci io do sempre ma dai ma dai insomma è molto francese questa abitù come sai sì sì guarda che facendo con lei si allontanano di più le persone col tu si avvicinano secondo me poi possiamo parlarne dicevi scusa mi ha colpito il tu e lei ma non ho capito la domanda che non hai che non hai scritto per dieci anni di Paci o su Paci però dalla sua morte dialogavi con lui nell'ottica obserliana del dialogo con i morti è il solito dialogare col Paci defunto o neanche quello riuscivi a fare? no cioè Paci mi occupava la mente ma non avevo nessuna fretta di andare a testimoniare in pubblico con le parole dell'allievo di Paci insieme ad altri allievi di Paci che non tutti poi pensavano allo stesso modo anche perché poi a un certo punto vengono fuori sono cose che non si sanno viene fuori un diario di Paci mai pubblicato in cui lui diceva peste e corne dei suoi allievi e lì gli allievi non so perché hanno tirato indietro le mani dicendo ma forse queste cose non vanno pubblicate no adesso lo dico lo dico con scherzo ma questo è proprio avvenuto insomma no? e allora tutto sommato Paci non era facile da accettare proprio non era facile sia che tu fossi in accordo sia che tu fossi in disaccordo però c'era un legame come dire così forte se tu eri stato davvero un suo allievo e questo legame non ti ho fatto allievi di torno anzi forse ti poteva anche infastidire io sono riuscito a giocarmela così in sostanza e adesso ho messo in pista questo fascicolo di autà sul gesto fenomenologico in cui ci sono anche le parole di pace evidentemente ma perché insomma sono passati un po' di anni insomma oltre 40 perché mi sembra che si possa farlo e sono veramente arrabbiato arrabbiato nella parola giusta indispettito dal fatto che pace non si legge ma non solo per quello che dicevo io prima della parola e della parola scritta e della parola parlata ma proprio perché sembra che siamo da un'altra parte e invece io credo che ci sia una inattualità di pace ancora oggi cioè mi piace pensare magari una follia mia che si vada verso e con il diario fenomenologico qualcosa del genere sta accadendo si vada verso la percezione che lì ci sia qualche cosa che forse non abbiamo afferrato e che ha a che fare abbastanza con il 30 maggio piuttosto che con il 30 aprile per tornare alla battuta di prima cioè qualcosa che che dobbiamo ancora affrontare certo ci sono cose che non ci piacciono certo ci sono c'è anche un accademismo di paci che che a me per esempio non soddisfa ma poi tu leggi i paci e ti ricordi ti ricordi perché l'hai conosciuto questo è importante però eh fare il gioco tra leggere e conoscere come dicevo prima ti ricordi che se tu gli ponevi un problema serio o almeno che a te sembrava serio lui ti rispondeva mettendosi un dito intorno al naso che era molto lungo bisogna dirlo no quello l'avevo visto ti rispondeva sì e no questa è la cosa che a me è rimasta molto impressa sul fatto che la risposta non è binaria che la che il pensiero non è mai completamente binario che non c'è il pensiero del sì e il pensiero del no lui ti confondeva le idee dicendo guarda che si può dire sì e no a quello che dici e allora io che ero già rompibale da allora gli dicevo professore anche di quello che dice lei certamente Peraldo mi diceva grazie posso farle allora in chat parti questa domanda dalla chat Francesco Di Maio che è un lettore di Melandri ci chiede se abbiamo avete ricordi del rapporto di Paci con Enzo Melandri Di Maio è parente del Di Maio politico? non credo sì dei collegamenti io penso che a questa domanda forse io non ho conosciuto personalmente Melandri ma penso che a questa domanda possa rispondere forse non voglio passare la palla ma credo che abbia qualche cosa da dire in più di me perché il rapporto io lo vedo anche molto significativo possa dirlo Giovanni se ha voglia di dirlo non è vero Giovanni? non c'è più sono qua io ho sempre pensato che il rapporto ci sia e abbia a che fare con quello che insomma i filosofi classicamente chiamano perché tu me ne hai parlato una volta sì te ne parlo sempre perché insomma ci sono somiglianze incroci nel loro modo diverso e comune però simile che si incrocia nel loro modo di leggere la questione della fenologia come esercizio come esercizio che ha a che fare con l'interrogazione sul gesto con cui comincia il pensiero un gesto che ha a che fare appunto con i corpi ma anche l'apsus i desideri è insomma un'incertezza di fondo ecco questo qua è quel tema della dialettica oggi la parola non si usa più la parola una volta la si usava in vario modo però pergeresti al posto tu Giovanni come sai il termine che a te non piace che tu ogni volta quando lo uso ti arrabbi e mi dà del deficiente trascendentale trascendentale è quella roba lì e il trascendentale è quella roba lì è il gesto con cui il filosofo si interroga sulle condizioni e possibilità di tutto ciò che c'è però se è un fenomenologo sa che quel gesto non sta in piedi sa che quel gesto rimanda alla conclusione concretezza al qui ed ora di atti corporei che si fanno in una comunità di persone che parlano assieme e condividono cosa condividono ma io direi la morte o l'amore che nominavi tu prima il desiderio insomma c'è la vita ecco la roba lì di cui la filosofia non può parlare se ne parla diventa altro da sé diventerebbe la volontà di catturare il mondo con i concetti ma se la filosofia è di pace la risposta che daresti a chi chiede di Melandri è che il rapporto è intenso eh sì perché Melandri per come per poco che capisco io insomma perché Melandri è anche un autore difficile mi sembra che alla fine lì nel circolo arrivi proprio a dire questo insomma lo dice insomma non è che me l'invento sta roba scritta lì ma anche in pace scritta lì tutta sta roba qua ha a che fare con quell'elemento vitale che non può essere catturato dalla filosofia appena una filosofia forte o accademica come vuoi una filosofia che pretende di dire le cose come stanno ma sì parte come stanno le cose ma non esaurirà con i suoi concetti sicuramente la totalità di ciò che c'è ecco e questa roba qua io la chiamo trascendentale ma ognuno la chiama come vuole insomma Melandri la chiamava dialettica da quello che ricordo e che insegnavi anche tu parlando di pace ricordo le tue lezioni a trieste anche per pace la dialettica era il termine che lui usava in quegli anni andava un po' di moda oggi non più per nominare il negativo una grande revisione del pensiero di Hegel gli ultimi corsi di pace sono su Hegel proprio però se pace fosse perché pace vive no se no sarebbe un cane morto non ci interessa direbbe a chi ha chattato quella domanda su Melandri Paci guarda sempre col dito sul naso guarda che chi fa una domanda ha già dato implicitamente una risposta quindi me la dai per cortesia adesso il chattante non è presente neanche in immagine ecco il chattante non sono parenti allora il politico evitiamo rispondi tu alla tua domanda qual è la risposta implicita la mia domanda in realtà la mia domanda era più più sul biografico e come abbiamo visto c'è un rapporto come dire un legame intrinseco con il gesto filosofico fenomenologico però niente da quello che so che sappiamo parlo anche al nome del gruppo di ricerca di filosofi con cui ci stiamo perdendo nella linea il circolo so che c'è un buon rapporto penso alla c'è un rapporto anche di amicizia penso al saggio collettaneo del 60 all'omaggio a Husserl detto questo però non so poi l'unico contatto che ho trovato tra i due non so poi come come si è sviluppato comunque ti piacerebbe trovarlo questo contatto questa è la risposta uno non cerca guarda adesso cerco una pepita d'oro ma non me ne frega niente ritrovarla no se cerchi qualcosa vuol dire che stai cercando qualcosa certo grazie sono le 6 e 35 cosa facciamo? allora ci sarebbe un'ultima domanda a dire il vero prego prego di Gianmarco Galasso che è anche studente del professor Leghissa poi partecipa al gruppo di lettura Melandriano quindi se Gianmarco volesse intervenire darei la parola a lui ma anche se non fosse nulla di tutto questo lo facciamo parlare ma sì certo perché siamo siamo così noi no perché sono gentile mica peraltro forza grazie la gentilezza allora intanto vi ringrazio tutti per gli interventi sono stati molto interessanti non conosco bene i paci ma tutte le cose che avete detto mi hanno fatto risuonare Echi Derridiani scusa puoi parlare un po' più ad agio è troppo forte la voce non si sente niente è questo voglio dire mi sentite ora meno meno di quello che dovremmo forse un po' più di prima dobbiamo chiudere il microfono aspetta di urlare cioè di parlare il più forte possibile allora io non conosco paci però tutte queste le cose che avete detto mi hanno fatto risuonare in testa Echi Derridiani mi spiego meglio in due cose principalmente una diciamo il gesto fenomenologico di dire io mi ha fatto pensare a una lettera che Derridas crista Foucault nel 63 in cui Derridas si lamenta del fatto che l'università lo distrae da quello che è il suo vero interesse cioè cito a me interesserebbe un tipo di scrittura filosofica in cui possa dire io raccontarmi senza vergogna e senza le delizie del giornale metafisico quindi il titolo che professor Roatti ha dato all'introduzione alla prefazione del diario di Pace mi sembra possa andare in questa direzione cioè tutta l'opera di Derridas potremmo dire è un diario qui questa è un po' alla domanda ma la cui risposta è in plinia la risposta è sì per me in qualche modo prendendo questa lettera e altre cose l'altro collegamento che ho trovato invece rispetto alle parole chiave che lei ha che il professor Roatti ha citato sono gesto tono esercizio e penso soltanto cito soltanto un testo che è un tono apocalittico utilizzato di recente in filosofia tra l'altro lì mi viene in mente un'altra cosa mi sembra che si possa fare una domanda al nostro presente rispetto a rispetto a quello che potremmo considerare la morte della filosofia lei prima ha parlato della scomparsa del marxismo all'interno del dibattito filosofico e più che altro ciò che è scomparso a me sembra quello che Derrida salva in spettri di Marx del marxismo cioè l'istanza di giustizia che è il vero desiderio di Derrida il vero desiderio della ricostruzione in fondo e mi chiedo allora se è possibile trovare uno spazio che dia voce a questo desiderio cioè l'università è ancora o è lo spazio in cui questo desiderio può trovare può trovare ecco possiamo ancora pensare un altro modo migliore dentro l'università oppure l'università ormai è solo una macchina di produzione di sapere domanda a cui credo sia difficile rispondere però seconda domanda più semplice voglio sapere dal punto di vista più biografico e per provare magari a ricercare su questo se c'è un collegamento tra pace e derrida questa domanda non la faccio perché sono già risposto ma veramente non lo so quindi non è una risposta grazie a te coordinatrice devo rispondere mi sa di sì allora il rapporto tra pace e derrida a me non risulta però non ho detto che mi risultino troppe cose ci può essere ma non penso esplicito invece voglio dire qualche cosa sulla faccenda A dell'io B del insomma del del marxismo che se n'è andato allora noi diciamo in prima persona come ha insistito a dire all'inizio Giovanni diciamo io diciamo che anche derrida dice io però attenzione questa parola o noi la smontiamo la scaviamo la proprio la la svuotiamo e questa questo io questo ego diventa un io empirico piccolo oppure non ci siamo intesi con pace ma neanche con noi e neanche col pensiero debole neanche con l'etica secondo me non ci siamo intesi quindi quella in prima persona comporta anche quel gesto che è lo spostamento del tema dell'attenzione da parte diciamo del discorso da parte della della riflessione non solo sulla sull'egoismo non solo sulla individualismo ma al contrario all'opposto è complicata questa cosa da vedere perché potrebbe di vedere che nell'io empirico c'è qualche cosa che fa a pugni con l'io no come lo usiamo normalmente all'inizio delle frasi come siamo abituati io dico che questo è un punto importante per quello che riguarda la questione del del marxismo io penso che anche questa è una questione che è caduta nell'inattualità e non è possibile che noi continuiamo a far l'ho già detto lo ridico a far sì che non prendiamo in considerazione la cosa e però parliamo di sinistra parliamo di potere parliamo di società che cambia crediamo per dire una risposta anche alla domanda che adesso mi sta fatta perché siamo ottimisti siamo ottimisti chi è il pessimista il pessimista è qualcuno che tutto sommato crede fortemente a quello che dice invece l'ottimista è quello che dice sì sono ottimista ma sì ma è un altro discorso io credo che la questione oggi è da vedersi con chi crede nella verità assoluta facciamo un esempio della pandemia è il negazionista lui crede che il virus non esiste ma quell'altro quello che dice guarda che il virus esiste non è così sicuro non è sicuro di tutto non è sicuro delle sue caratteristiche non è sicuro dei livelli di rischio che esso comporta non è sicuro e questo è interessante perché oggi stiamo vedendo dei barlumi di una pensabilità dell'esistente leggermente diversa io vorrei essere ottimista e dire questo con lo sguardo rivolto all'oggi fine del mondo grazie grazie ancora per quello che mi riguarda io sono agli sgoccioli della mia possibilità della presenza poi voi potete continuare fino a mezzanotte se volete allora se non ci sono altre domande Giovanni vuoi dire qualcosa per concludere? no no visto allora no grazie a te per averci guidato no? condotto con l'arrembaggio ma però no in realtà saluti finali devi farli tu appunto visto che questo tu compito io mi dico ringraziare Rosotes che ci ha ospitati online ma sei soddisfatto di come hai dato a Giovanni o no? certo è piaciuto no puoi dire anche di no eh non c'entra niente con paci siccome qua appunto ho visto anche molte persone che hanno seguito questo ultimo corso ma anche altri sono orgoglioso di aver mostrato i miei studenti il mio maestro questa è una cosa io da tempo vorrei portare il professor Rovati a fare una conferenza a Torino eccetera ma insomma non è così semplice ho avuto una serie di ragioni e però appunto l'online che io non amo moltissimo perché insomma mi freddo le gambe eccetera però insomma ha anche questa funzione di rendere possibili questi incontri tempo fa sono venuto a fare una lezione sulla tecnologia in un corso di vattimo tempo fa eh qualche anno fa ma come qualche anno fa 15 appunto esatto ma quel corso di vattimo sulla tecnologia lo si ricorda ancora in quanto corso beato te perché io non lo ricordo non l'avendolo mai seguito no ma mi giungono voci su quel corso voci di corridoio insomma di chi l'aveva seguito appunto ricorda bene che in quel corso non si parlava di fenomenologia comunque la fenomenologia è un tafano per usare una figura diciamo vecchia no addirittura socratica che ti ronza intorno anche quando non vuoi no non è mica facile liberarsene non puoi fare vai via no c'è devi fare i conti i conti come li facciamo accademizzando assolutizzando in senso accademico il discorso fenomenologico questi sono i conti che stiamo facendo ma poi nessuno è soddisfatto di questo oddio in accademia nessuno ne parla io insisto sempre col dire che la filologia è lettera morta nella filosofia accademica mi pare sia abbastanza vero questo posso sbagliarmi non so a Torino ma di cui ho esperienza di realtà anche altrove perché se si parla di un discorso che che non sta in piedi che rimanda a qualcosa che gli sta fuori è perché questa è un po' la fenomenologia no? e questo non viene ben visto dall'accademia neanche allora da Paci Paci parlava di Torino come di un mondo lui aveva sempre paura degli altri mondi come un mondo che lo terrorizzava dove non si era capito niente di tecnologia dove chissà cosa sarebbe successo dove non voleva andare no? e c'è Milano e Torino lui era a Milano e Torino era dall'altra parte in sostanza Paraison va bene dai Veronica chiudi tu allora io chiudo mi sembra un'impresa un po' impossibile visto che a quanto pare il gesto della fenomenologia si potrebbe rinnovare all'infinito come avete dimostrato soprattutto voi due dibattendo non fare gesti volgari però no il gesto della fenomenologia il gesto dell'ombrello esatto e poi a questo punto dici ma qual è questo gesto della fenomenologia questo qua questo qua qual è lasceremo il mistero lasceremo questo mistero vabbè ringrazio tutti chi ci ha seguito su Facebook chi è arrivato qui chi ha preso parola qui i relatori quindi Giovanni chiaramente Francesco Tosca ma soprattutto Pieraldo Rovatti ringrazio Ortotes che ha ripubblicato rieditato il testo e per averci scelti per questa presentazione quindi per me ringrazio anche Iedloschi che ho visto con molto piacere noi l'abbiamo conosciuto almeno io personalmente l'ho conosciuto quindi così ho conosciuto il vostro gruppo ho visto il sito anche prima di entrare complimenti grazie parteciperò altre volte volentieri anche con gli iscritti va bene grazie a tutti per quello che mi riguarda grazie a te arrivederci a tutti ciao grazie buona serata ciao ciao Giovanni ciao a tutti ciao Veronica ciao 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 ciao